Fra i 20 e i 30 anni di solito un atleta è nel pieno delle proprie forze, del proprio vigore e quindi continua a gareggiare, continua a competere per ottenere risultati, per ottenere qualcosa di importante. C'è però chi invece a un certo punto della propria vita, magari a 25 anni, fa una scelta particolare e decide di mollare quasi del tutto il campo di gara per avventurarsi in qualcosa di speciale. Abbiamo qui l'esempio, Diego Martini, atleta a tutto tondo fino a un paio di mesi fa, non di più. E poi c'è Francesco Antinelli, anche lui, lui ha detto ex, ma insomma mica tanto, a 30 anni non si può essere così ex. Atleti per l'atletica leggera, da poco tempo hanno deciso di cambiare il loro stile di vita e di mettere in piedi qualcosa di particolare, ho detto io. Diego, da due mesi soltanto siete diventati che cosa? Da due mesi soltanto siamo diventati l'FD Athletics Academy. Il nome è stato scelto in base a quelli che erano un po' gli obiettivi che ci siamo prefissati, cioè vogliamo cercare di riproporre, di ricreare il concetto di sport proprio come stile di vita. Quindi non solo il classico che cosa faccio durante la settimana, ma vogliamo cercare di portare i ragazzi ad una nuova frontiera, nel senso che stiamo cercando di ricreare qualcosa che già esisteva e che però la maggior parte dei ragazzi non hanno conosciuto. Quindi cercare di far diventare lo stadio dei Pini, ma comunque tutte le strutture che abbiamo a nostra disposizione, il punto di ritrovo dei ragazzi. Cioè quando non sapranno che cosa fare, magari non hanno voglia di andare in piazza, non hanno voglia di uscire, cosa abbastanza rara. Però ecco, magari possono ritrovarsi qui senza problemi e cercare di mettere a disposizione un po' del loro tempo proprio per lo sport che praticano e che amano. Francesco Antinelli, siete stati una costola dell'USA fino a pochi giorni fa. A un certo punto avete deciso di staccarvi. Che cosa è successo? Che cosa vi ha spinto a fare questo passo? È una bellissima domanda. Noi amiamo questo sport, soprattutto l'atletica. Ci siamo staccati perché? Perché era una possibilità di crescita, soprattutto per Diego, che è uno dei migliori tecnici che abbiamo qui in Abruzzo. È stata anche una scompensa. E' anche una domanda un po' scomoda, a dire la verità, perché lasciare una famiglia per crearsene una propria è una bella sfida, però l'avete voluto fare. Sì, l'abbiamo voluto fare perché l'atletica è lo sport che amiamo, però amiamo più che altro proprio lo sport. E quindi abbiamo creato proprio questa realtà che ci permette di ricreare la polisportiva, quindi la possibilità di fare tutti gli sport, purtroppo ad un prezzo minimo, nel senso che quando, diciamo, ai tempi d'oro, quindi anche 15-20 anni fa, si poteva fare sport senza pagare nulla. Adesso purtroppo non è più possibile, però ecco, la vera sfida è cercare di proporre tanti sport per anche famiglie numerose, quindi dare la possibilità anche a famiglie con 3, 4, 5 figli, che è una cosa abbastanza rara, però di poter fare sport tutti quanti. Infatti anche le nostre, adesso un attimo un discorso economico, le nostre tariffe permettono proprio di poter fare sport più persone contemporaneamente, dato che, ad esempio, una famiglia composta da 3 persone pagano uno intero, uno ridotto, il terzo figlio addirittura è gratuito. Quindi stiamo cercando proprio di far riscoprire i veri valori dello sport, quindi non solo il lato puramente tecnico o il lato semplicemente economico, ma proprio dare la possibilità a tutti di fare lo sport che vogliono e di fare più sport contemporaneamente, seguiti da tecnici. Ecco, adesso noi facciamo atletica, però proprio il nostro contesto di polisportiva si è allargato anche alle arti marziali, si allargerà alla difesa personale per le donne, tutto quanto con dei tecnici specializzati. E quindi la vera sfida non è tanto quella del perché ci siamo staccati dall'usavezzano o altro, è proprio perché noi amiamo l'atletica come sport, infatti e lui ci occupiamo prevalentemente di questo. Ma il vero motivo è per crescere nell'ambito dello sport, cioè nel mondo sport, non solo nell'atletica. Il Presidente, sai tu, ma lui come dialettica non lo batte nessuno. Senti, quanti ne siete e soprattutto da che età fino a che età? Numeri reali, questo è un numero reali. Noi siamo a 98 per la precisione, abbiamo detto 100 perché io e lui ancora non ci siamo tesserati, aspettavamo proprio questo momento di arrivare ai 98 per poi fare la soglia dei 100. Siamo 100 e obiettivamente in due mesi è veramente un grande risultato, un grande risultato. Età? Cinque anni in su. Fino al nostro giovanotto che ha 65 anni? 63 anni, 63. Quindi diciamo che è una fascia d'età molto ampia. Quanti maschietti e quante femminucce avete idea? Più o meno, guardi, sono un po' più i maschi. Diciamo un 70% sono maschi. Le donne ancora un pochino restire, soprattutto perché noi facciamo anche le arti marziali che magari è un po' un campo più maschile. E con le arti marziali dove? Sempre nella palestra Cesolino, martedì e giovedì, dalle 7 alle 8.30 facciamo arti marziali, difesa personale maschile e a gennaio anche difesa personale femminile. Quindi da lì partiamo dai 14 anni in su, però chiaramente è una questione di sicurezza. Lì abbiamo già tantissimi iscritti, quindi venite a provare, perché è molto bello, un'esperienza molto bella, molto 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 bella. Sicuramente. Diego, non siete affiliati però alla FIDAL, quindi significa che non potete gareggiare nelle competizioni FIDAL? Allora, come Athletics Academy no. È stata una scelta voluta proprio per poter creare il contesto di polisportiva. La FIDAL ci vincolava troppo in un contesto solo atletico, però qui ci vengono in aiuto degli amici fondamentalmente e quindi altre società tesserate FIDAL che ovviamente dopo aver letto regolamenti e quant'altro e quindi esserci accertati della possibilità di farlo ci sono venuti in aiuto e ci hanno permesso il doppio tesseramento per i nostri atleti. Quindi noi diciamo che ci occupiamo di un contesto non agonistico come Athletics Academy, però abbiamo richiesto a determinate altre società di poter accogliere i nostri ragazzi. Alcuni addirittura sono stati proprio richiesti da queste società e quindi comunque gareggeranno per la FIDAL. È ovvio che nel momento in cui gareggeranno, quindi in un contesto ufficiale, FIDAL indosseranno la maglietta e la tuta della società di appartenenza FIDAL. Però ecco, noi speriamo che nel cuore comunque ci sia sempre l'Athletics Academy, anche perché tutto quello che stiamo facendo e i numeri parlano chiaro lo stiamo facendo per loro, che oggi sono abbastanza numerosi e qualcuno è anche assente. E l'hanno capito, è la cosa più importante. Allora ne prendo uno a caso per tutti, perché penso di aver intuito che uno di quelli che poi metterà l'altra maglietta è proprio Nino Ruggeri, perché tu sei un velocista, uno dei migliori di Abruzzo, mi hanno detto. 17 anni soltanto, tempi sui 100? Sui 100 sono un po' scarso, ancora ho 11,73, vado meglio sui 200 dove ho 23,32. È la miglior prestazione di categoria della regione per quest'anno. Da quanti anni fai l'Atletica? Ho iniziato due anni fa, sono uscito da un altro sport, sono venuto qui, ho trovato Diego, mi sono trovato subito bene, ho cominciato ad amare questo sport e ho continuato, sono solo due anni che... Ma ti piace più la musica, più l'Atletica o più la scuola per esempio? Ma ho tante passioni e purtroppo la scuola non rientra proprio in questo, anche se me la cavo abbastanza bene. Anche lì l'Atletica è la mia passione principale, da due anni a questa parte, seguivo anche prima ma la pratico da poco e venire tutti i giorni qui nello stadio, comunque vedere anche i risultati dei sacrifici, perché ci sono anche molti sacrifici che vengono premiati, è una bella soddisfazione, è una bella sensazione. Senti, una classifica, scuola, Atletica, musica e fidanzata, fammi una classifica, al primo posto chi ci metti? E' un po' difficile perché, no vabbè, diciamo mettiamo sullo stesso piano l'Atletica e comunque le relazioni all'esterno, amici, fidanzata e poi la musica che mi piace tantissimo e la scuola. Può aspettare la scuola? Può aspettare, può aspettare. Atletica quindi, ma non solo, è anche arti marziali questa società. Siamo con Roberto Antinelli, qui al centro sportivo di Donnorione, dove si allena questa società. A proposito, quanti ne siete e che cosa fate? Noi siamo una scuola di Kung Fu, quindi Kung Fu è un termine un pochino strano, con il quale vengono aggruppati tutti gli stili di origine cinese. Noi facciamo uno di questi, c'è uno stile di Kung Fu che si chiama Wing Chun. Wing Chun, almeno nella Marzica d'Avezzano, sembra un po' sconosciuto, ma se usciamo fuori dalla regione ci rendiamo conto che ci sono veramente centinaia di scuole. Noi siamo all'incirca 30 allievi, oggi un pochino di meno fa freddo, e dai 14 anni in su. Disciplina nuova perché è un'arte marziale che non si può collocare in nessuno spazio, non possiamo dire somiglia a questo, somiglia a quello. È un'arte marziale unica perché ci fa fare un percorso di difesa personale individuale per ognuno di noi. Quindi, di pericoloso, quanto c'è in questa arte marziale? Diciamo che ci si fa più male in altri sport. Ecco, per non andare troppo lontano il calcio è proprio fra quelli dove ci si fa più male. Vedo persone che non hanno più 18 anni e che però continuano a fare attività fisica, questo è importante? Questo è importante perché il Kung Fu è un percorso che si fa da piccoli fino a quando si vuole, insomma. Quindi non c'è un limite d'età, ovviamente la persona di 14 anni si allena diversamente rispetto a una di 60, questo è ovvio. Quindi è un percorso che si fa tutti insieme cercando di fare il meglio possibile. Quanti allenamenti fai durante la settimana? Attualmente ci alleniamo due volte a settimana. Sufficienti? Beh, no, direi di no. Gare? Gare? Abbiamo un settore agonistico, abbiamo un rappresentante Diego che domenica scorsa è arrivato terzo ai campionati italiani, quindi ci ha portato un ottimo risultato. È un settore che sta andando man mano per la maggiore.